Radicati nell'ascolto della parola e nella lettura della storia, docile all'azione dello spirito, generiamo vita nuova, profezia per l'uomo d'oggi, alla ricerca di senso e verità. Provenienti da tutta Italia per due giorni, si sono dati appuntamento al Santuario della Madonna Greca a Isola di Caponizzuto, in occasione del Congresso Nazionale, il 47esimo, del Movimento di Spiritualità Vivere in, Associazione Internazionale di Diritto Pontificio. Momenti di preghiera, di riflessione e di condivisione. È stata una tappa veramente evoluta e ricercata, il 47esimo convegno nazionale non si teneva in Calabria da 25 anni, è stata una scelta perché la Calabria è una terra di grandi fermenti, anche di grandi contraddizioni, però è una terra dove naturalmente avviene quella sintesi tra pensiero e azione e il tema del convegno ci spinge a questo, tra ascolto e profezia. La Calabria è una terra che sa ascoltare, che sa ascoltare e sa anche, come dicevo, fare sintesi tra culture diverse, nazionalità diverse, storie diverse, quindi quale luogo migliore. Meditazioni, tavole rotonde, incontri, seguendo la traccia tra ascolto e profezia, conclusioni affidate alla Presidente nazionale. Tra ascolto e profezia mi sembra un tema che oggi più che mai è attuale perché siamo invitati ad ascoltare, e anzitutto ad ascoltare la parola di Dio che è la guida al nostro cammino, poi ascoltare la storia. Ascoltare la storia vuol dire ascoltare gli uomini, ascoltare i fratelli, ascoltare il grido della natura, e poi questo ascolto non può esaurirsi, è finalizzato a se stesso, ma deve diventare proposta, ed ecco la profezia. Credo che il messaggio più profondo che il Signore Gesù ha portato sulla terra è proprio questo, ha detto a tutti quanti di essere fratelli, fratelli liberi, quindi la fratellanza, la libertà, l'amore. Sono queste le coordinate lungo le quali il cristiano deve camminare, intanto come convinzione personale che diventa poi vita e diventa azione pratica. Quindi il cattolico deve essere un uomo presente nella storia, ma con un volto, un'identità e con un'azione ben chiara, che è quella appunto di proiettarsi all'esterno verso tutto quello che ci circonda.